Direi che appunto questo viaggio in Azerbaijan e in Giorgia, in un certo senso, completa la visita nel Caucaso meridionale che il Santo Padre ha iniziato nello scorso mese di giugno visitando l'Armenia. Si tratta evidentemente di paesi, di tre paesi di molta storia e di antica cultura, ma anche diversi tra di loro. Era abbastanza naturale che il Santo Padre li visitasse tutti e tre, come di fatto sta facendo, venendo incontro anche agli inviti delle autorità ecclesiastiche, della Chiesa Cattolica e delle autorità civili. Il Papa va naturalmente sempre, l'abbiamo visto anche in Armenia, come un amico, soprattutto per incontrare, incontrare le persone, incontrare le realità così differenziate, per incontrare i popoli, per favorire questa cultura dell'incontro che gli sta tanto a cuore. Ed ovviamente a questa cultura dell'incontro è strettamente vincolato anche tutto il tema della pace. E quindi il Papa certamente porrà al centro anche del suo insegnamento e della sua presenza proprio questo favorire in ogni modo la pace, la riconciliazione e l'intesa. E poi, come sempre, l'incontro con la Chiesa Cattolica, ecco, per incoraggiarla ad andare avanti nella sua vita e nella sua missione. Qual è la situazione della Chiesa oggi in Georgia e quali sono le sfide per la società? Dunque, la Chiesa, sì, sappiamo che la Georgia è stato uno dei primi paesi che ha accettato il cristianesimo in forma ufficiale attraverso l'opera evangelizzatrice di una santa, di una donna, ecco, sottolineiamo anche questo, è stata una donna, Santanino, anche se ha un cognome, ha un nome, diciamo, un po' strano, Santanino, nel IV secolo. E ancora oggi, evidentemente, la caratteristica, l'impronta della società georgiana è cristiana. Ecco, quindi il Papa va anche per incontrare questa Chiesa, la Chiesa Ortodossa Georgiana e il suo cattolico spatriarca, Ilia II, per cercare di stringere, di favorire, di promuovere reciproci legami di amicizia, vincoli di amicizia. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, è certamente una realtà minoritaria, una realtà piuttosto piccola, limitata, ma che ha una presenza significativa. E' presente in tutte le regioni del paese, attraverso i suoi tre riti, il rito latino, l'armeno e poi l'assiro caldeo. E, diciamo, realizza, oltre che dal punto di vista pastorale, molte altre opere, soprattutto nei campi della carità e dell'assistenza, e nel campo anche educativo. Ecco, vorrei sottolineare anche l'importanza del fatto che la Chiesa Cattolica, come tutte le minoranze religiose, gode di uno statuto giuridico, come è preciso. E questo, evidentemente, aiuta il suo inserimento in quella realtà e adatta anche lo svolgimento della sua attività e della sua missione. Sfide, ma io vorrei sottolinearne una, ecco, ed è un po' quella, il tema dei rifugiati. I rifugiati, sia rifugiati, diciamo, che vengono dai paesi medio orientali, che si trovano nella situazione, ecco, di conflitto, vista anche la vicinanza geografica di questo paese, sia anche gli sfollati interni, che hanno dovuto abbandonare il loro luogo d'origine a causa dei conflitti che si sono prodotti negli anni recenti. In questo dittico, cosa possiamo dire dell'Azerbaijan? Qual è la situazione della Chiesa, ma anche quali sono le realtà, le situazioni a cui la Santa Sede rivolge la propria attenzione? L'Azerbaijan si sforza di essere un paese che promuove la tolleranza fra le varie religioni e le varie culture, ecco, che sono presenti nel paese. E direi che questo è di fondamentale importanza nel nostro mondo, ecco, veramente favorire l'incontro, quello di cui si parlava poco fa, in riferimento al Papa. Anche qui la Chiesa Cattolica, diciamo, le sue attività godono di un riconoscimento giuridico che permette appunto di lavorare, che permette di assistere adeguatamente i membri cattolici, i cattolici che vivono in questo paese. E nello stesso tempo anche si sforza di impegnarsi nel dialogo con l'Islam e con le altre, diciamo, comunità che sono presenti nel paese. Queste sono terre di confine tra Oriente e Occidente, dove il dialogo è un'urgenza. Dunque il Pontefice si farà una volta in più con le sue parole, messaggero di pace. Certamente, certamente. Questa è una delle finalità del viaggio. Certo, questa terra è una terra di confine. Le terre di confine sono terre di una particolare ricchezza, di una particolare vivacità. Ma nello stesso tempo anche sono terre che soffrono di tante tensioni, che soffrono di tanti conflitti, ecco, che soffrono di lacerazioni. Ed allora la parola del Papa potrà essere davvero una parola che invita a fare quello che lui dice spesso, delle differenze, non motivo di conflitto, ma motivo di arricchimento reciproco. Ecco, la grande sfida dei nostri giorni. Certamente sarà una sfida che il Papa rilancerà anche in questa terra. E, d'altra parte, ci sono anche segnali positivi, incoraggianti. Ecco che si sta tentando di superare queste tensioni. Anche questo il Papa certamente cercherà di appoggiare, cercherà di sostenere, di promuovere.